Dipendenti comunali ma anche cittadini sono stati loro i destinatari della seconda giornata della trasparenza andata in scena nell'aula consigliare del comune di Santa Venerina. È stata la segretaria comunale Nerina Scandura e il collega di Mister Bianco, Vincenzo Marano, a spiegare le tematiche dell'anticorruzione, della trasparenza e dell'accessibilità delle informazioni sull'organizzazione e sull'attività dell'ente. Presentate anche le novità introdotte dal decreto legislativo 97 del 2016 finalizzato a rafforzare la trasparenza amministrativa introducendo una nuova forma di accesso civico a dati e documenti pubblici. Approfonditi anche i diritti di accesso da parte dei cittadini, casi di esclusione così è stato spiegato sono le ragioni di sicurezza pubblica, il segreto di Stato e l'interesse pubblico. A chiusura dell'incontro, infine, il vice sindaco Giuseppe Fresta ha illustrato il sito web istituzionale del comune spiegando le modalità di accessibilità e di fruizione delle informazioni pubblicate.